La situazione attuale degli incendi boschivi in regione toscana, in dettaglio questi simboli rossi sono incendi boschivi attivi. Siamo all'interno della sala operativa provinciale dell'Unione dei Comuni del Prato Magno con sede a Lorociuffenna. È qui che saranno coordinate le operazioni antincendio per la provincia di Arezzo, sarà aperta 24 ore su 24. L'organizzazione regionale AIB è un'organizzazione molto complessa in quanto si avvale di molteplici forze. È personale dell'Unione dei Comuni del Prato Magno che in provincia di Arezzo sono tre, personale del volontariato in provincia di Arezzo sono circa dieci sezioni, in più regione toscana stabilisce convenzioni con i vigili del fuoco e con i carabinieri forestali. Inoltre in regione toscana abbiamo diverse vedette che monitorano il territorio. Fortunatamente la stagione tardo-primaverile con le piogge che sono state ha fatto in modo e in maniera che nonostante gli eventi si stiano verificando non hanno un impatto o un'intensità importante. Infatti le segnalazioni che arrivano per fortuna riescono a risolversi con eventi non particolarmente rilevanti. Chiaramente se la stagione continuerà con questo trend andremo incontro a delle criticità che chiaramente poi dovranno essere affrontate nella maniera più tempestiva possibile. La legge regionale della Toscana impone il divieto assoluto di accensioni fuochi dal primo di luglio al 31 di agosto. Quindi ovviamente il divieto si estende a tutte quelle forme che poi possono portare alla propagazione e all'innesco degli incendi. Quindi massima cautela e chiaramente se uno deve fare il classico barbecue vicino a casa quello non lo può fare ma con tutte le cautele del caso soprattutto anche in condizioni di forte vento perché chiaramente il combustibile fine è quello che prende per primo e quindi anche una piccola scintilla o una piccola brace poi può portare a conseguenze piuttosto spiacevoli.